Un tir con oltre 9 tonnellate di sigarette di contrabbando pronte per essere immesse sul mercato di Napoli e provincia. È quanto ha individuato la guardia di finanza del gruppo di Giuliano in Campania. L'autocarro con targa Maggiara è stato fermato in un'area di servizio dell'autostrada Roma-Napoli. A bordo c'erano due ungheresi che ufficialmente avrebbero dovuto trasportare medicinali per animali diretti a Tunisi. Ma i finanzieri, accertato che per la tipologia della merce trasportata il frigo non era neppure acceso, hanno scoperto che dietro quei cartoni che contenevano medicinali scaduti da anni, erano state nascoste 9 tonnellate di casse di sigarette di marca 821, per un valore di mercato di oltre un milione di euro. I due stranieri di 38 e 40 anni sono stati arrestati e condotti nel carcere di Poggio Reale. Il mezzo e le sigarette sono state sottoposte a sequestro.